bella a tutti ragazzi siamo qui con un nuovo video che parla di Dying Light in questo caso è un piccolo trucchetto per trovare un'arma che è veramente veramente forte stiamo parlando di Excalibur la famosa spada come tutti forse saprete Excalibur è una spada che può essere trovata solo una volta e ha delle proprietà uniche che la rendono potentissima allora vi chiederete dove si può trovare questa spada soprattutto ci vuole qualche prerequisito per averla allora per quanto riguarda i prerequisiti no qualsiasi giocatore di qualsiasi livello può trovare questa spada e tenersela e la posizione è nella mappa in questo punto qua ecco qua ad est c'è un'isoletta piccola piccola in questo punto che non è inserita lì a caso allora lasciamo il punto ok ed è qui dritto davanti a noi allora andiamo ok prendere sarà un problema ok sicuro che non si sa mai andiamo 210 metri questa qua l'avevo aperta in precedenza infatti è vuota eccola la vedete l'isoletta molto semplice da trovare eccola qua davanti a me l'isoletta ok e questa qua è la famosa isoletta di cui parlavo prima in questo punto qua allora io l'ho già presa Excalibur quindi non tutto il passaggio che adesso vi spiegherò io non lo farò allora praticamente in questa parte della roccia troverete un cadavere infilzato da una spada che è appunto la nostra Excalibur basta avvicinarsi al cadavere e tenere premuto il tasto per estrarla F o nel mio caso la X del joypad per un paio di minuti circa 2-3 minuti tenerlo sempre premuto però mi raccomando fino a che la barra non si riempie e estraete la spada una volta che la spada è estratta il cadavere che era infilzato inizia a bruciare allora voi dovete allontanarvi mettevi in questa zona qua così e aspettare mi raccomando aspettate perché? perché una volta che il cadavere è bruciato completamente esso farà cadere un progetto che sarà il progetto che permette di costruire, craftare e replicare quest'arma una volta che viene distrutta e questo perché? perché Excalibur come ho detto prima è un'arma fortissima e unica nel gioco il piccolo problema è che non può essere riparata e soprattutto ha pochissimi colpi a disposizione nel senso che con una decina di colpi la lama si è già rovinata allora vediamo se io ce l'ho già così vediamo se riesco a farvela vedere forse no no però se vado sui progetti eccola qua Kingsworld are you the one? è questa qua con tutti i componenti che servono e i danni fidatevi 321 per l'inizio del gioco sono veramente veramente tanti ora a un certo punto quando avete finito il gioco non sono neanche tanti fate conto che questa mazza da baseball qua fa quasi 2500 però all'inizio è qualcosa di bellino insomma che che vi servirà e spero che il tutorial vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima che vediamo alla prossima per la prossima che vediamo alla prossima Grazie a tutti.